Sveglialo, sveglialo. Svegliare chi? Te. Non ne ho idea. Ma di certo lo ritenevo importante. Hai visto la spaziatura? Gli spazi creano... un percorso. Già, che ci porta... qui. Aspetta un momento. Gli uffici? La mensa? La sala? E qui ci sono i pazienti. I laboratori. Ben. È la piantina di questo centro. Non dirmi che passeremo la palla all'unità chiamata, vero? No, non lo faremo. Come dicono sempre i miei figli, facciamo la caccia al tesoro. è giù. TIE Girl, non lo faremo. Grazie a tutti.